Ci sono dei falsi miti, ci sono delle stupidaggini che girano incredibili sulle vitomadre. Eccoci qui e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Andrea Di Giglio, dal 2004 professionista in alberghi e ristoranti anche rinomati in tutto il mondo. Dal 2020 ho creato la mia Academy Online di Pasticceria, dove aiuto sia appassionati, aspiranti pasticceri, professionisti e titolari di attività a creare dolci d'eccellenza, a capire l'alta pasticceria, a diventare molto più bravi, molto più abili, proprio come un pasticcere professionista. Mi sono formato con i più grandi formatori al mondo, conosciuto personalmente i migliori pasticceri al mondo e quindi dal 2020 ho creato questa Academy dove aiuto migliaia di appassionati, aspiranti pasticceri e professionisti. Sappi che comunque nel link in descrizione trovi tutto. Trovi le testimonianze, trovi la mia Academy, trovi le Mastercast gratuite, trovi tutto nel link in descrizione. Oggi ti voglio parlare del lievito madre. Questi video prendono spunto molto dalla mia quotidianità, prendono spunto dalle domande che mi fanno i corsisti, prendono spunto da veramente un po' la mia vita. Allora, oggi ti voglio parlare del lievito madre perché il lievito madre è molto complesso. Ci sono dei falsi miti, ci sono delle stupidaggini che girano incredibili sul lievito madre. Io personalmente ho fatto corsi anche con formatori molto famosi che raccontano in verità una marea di stupidaggini, ok? Pochi sono quelli che hanno capito a fondo le cose. Ci sono, ok? Ma sono pochi. La maggior parte vi dicono delle stupidaggini. Questa è la verità. Il lievito madre è una massa viva, è un impasto di acqua e farina, no? Che contiene batteri e lieviti e si chiama microbiota, no? Ce l'abbiamo anche nell'intestino. Questa massa di batteri e lieviti, quindi lieviti, viaggiano con l'acqua e determinate temperature. Anche i batteri, no? I batteri all'interno contenuti il lievito madre, ci sono batteri lattici, batteri acetici. Anche loro, diciamo, cambiano in base alle temperature, alle percentuali di acqua e ai rapporti di farina. Quindi, lievito madre, innanzitutto capiamo una cosa. Il lievito madre, molti dicono, no, ma basta che ci parli. Allora, a parte queste stupidaggini qui, il lievito madre è una cosa seria. È una cosa seria perché bisogna veramente studiare a fondo le cose, bisogna capire le cose. Il lievito madre, bisogna essere molto tecnici per gestirlo. Ma, anche, bisogna usare i sensi, quindi l'odore, quindi l'olfatto, guardarlo, toccarlo, ok? Il lievito madre è complesso. Nei miei corsi di pasticceria lievitata, ho il corso delle bilanciature, vado a fondo delle cose e spiego bene il lievito madre. Ma siccome mi vengono fatte delle domande, e soprattutto vedo che le persone poi cercano delle scorciatoie, tipo, acquisto il pH-metro, tipo, non ho capito niente del lievito madre, acquisto il pH-metro, così almeno se il pH ha 4.1, che bello, parto con i panettoni. Non funziona così il lievito madre. Cioè, non è che se hai un parametro del pH-metro giusto, allora puoi chiudere gli occhi e partire con l'impasto serare il panettone. Questa cosa è totalmente sbagliata ed è falsa. Devi sapere che nel lievito madre, come abbiamo detto, ci sono batteri lattici, batteri acetici, lieviti. Il lievito madre va gestito in base alle varie gestioni, no? Nel corso lo spiego e approfondisco. Nel sacco, quindi il classico la milanese. Lievito tenuto in acqua, come quello che dico io di usare all'inizio, no? Il classico metodo piemontese. Il lievito libero, tenuto dentro un contenitore libero. Oppure c'è anche il licoli. Ma il licoli è un altro mondo e ho già fatto dei video dove approfondisco su questo canale. Devi sapere che il lievito madre si gestisce con i rapporti di farina, quindi tot di lievito, tot di farina. Il rapporto di farina cambia, no? Non è che è sempre uguale in base alla gestione. Più farina, più lo basifichi. Quindi lo indebolisci al momento, no? Però più farina, ovviamente porti dentro quindi tanta farina, più lo indebolisci, quindi impiega più tempo per mangiare. Ma vanno anche considerati i rapporti e le percentuali di acqua. Cioè, è chiaro che basse idratazioni fanno un lievito più duro che sviluppa con un po' più di lentezza, no? Ovviamente ricordiamoci sempre che all'interno del lievito madre ci sono i lieviti e qual è la strada dei lieviti? L'acqua. Quindi percentuali più alte di acqua più sviluppano la parte dei lieviti, quindi la parte alcolica, la velocità proprio dello sviluppo, no? Però le percentuali, ci sono dei percentuali che ho spiegato anche nel corso delle bilanciature, quello che ho spiegato nel corso dei lievitati, che sono da tenere in considerazione. C'è un minimo e un massimo che si può utilizzare, ok? Queste percentuali, queste forbici di percentuali, sono da tenere in considerazione. Quindi rapporto di farina, rapporto di percentuale di idratazione, e poi i sensi. Colore, odore, sapore, controllo dei volumi. Quindi non è semplicemente voglio coprire gli occhi, non vedo come funziona questo lievito, non ci ho capito niente, però guarda, chef, ho comprato il pH-ametro, metto il pH-ametro e poi, guarda caso, siccome tu non hai capito niente del lievito madre, metti il pH-ametro e ti dice 4.1, fai panettoni e non ti vengono. Perché? Perché il pH-ametro ti dà il pH, ok? Ma non ti dice se sei in acidità acetica esagerata, in acidità lattica esagerata. Cioè, dentro ci sono due acidità, la lattica e l'acetica. La lattica crea dei problemi se è in eccesso. L'acetica crea dei problemi se è in eccesso. Quindi, ad esempio, le acidità lattica-acetica che possono creare dei problemi, il pH mica ve lo dice. Quindi il pH-ametro è un parametro, come dico sempre, come anche ho scritto oggi nella mail, il pH-ametro è un parametro valido, validissimo, ottimo, ok? Ma dopo che tu hai capito la gestione del lievito madre, dopo che hai capito i rapporti lievito-farina, dopo che hai capito le percentuali idratazioni, dopo che hai capito le temperature di come viaggia un lievito, dello stazionamento, di come farlo lavorare, di quanto deve riposare, di quanto può lavorare, insomma, non ci si può limitare a comprare il pH-ametro perché si vuole cercare la scorciatoia, anche perché la scorciatoia, come nella vita, come nel lievito madre, non esiste. Esiste farsi il mazzo, esiste guardare, studiare, capire e approfondire e rinfrescarlo tutti i giorni, andare a capire, andare a toccarlo, andare a assaggiarlo, ok? Anche lì, oppure mi è stato detto, no, chef, ma io non lo assaggio perché non mi piace. Eh, ma se non lo assaggi è un problema, perché tu non capisci le acidità così, perché è vero che l'acetica si sente molto al naso, la lattica, ad esempio, se è in eccesso, si sente molto nella bocca, no, un po' amaro, ma ovviamente, ma se non lo assaggi non sai neanche come sta al tuo lievito, se non sa di niente, sa di farina, è debole, se è troppo forte e te ne rendi conto all'olfatto, ma anche al gusto. È molto importante capire che non cercate la scorciatoia andando a prendere il piaccametro prima che avete capito il lievito. Guardate che io corsisti da tutto il mondo, appassionati che senza piaccametro sfornano panettoni. Io stesso oggi sto sfornando panettoni, ok? Proprio oggi, in questo momento, il lievito, tra l'altro, monorinfresco, è messo a lievitare, per poi fare l'impasto serale dei panettoni. Anche lì si apre un altro mondo. La vecchia scuola ha sempre insegnato a fare tre rinfreschi. Già io dico nel corso, tranquillamente, ne potete fare due, e già tre anni fa facevo centinaia di panettoni a un rinfresco. Ma siccome non si può dire, perché la scuola, per carità, non si può dire, in verità vi dico che il monorinfresco, fare già tre anni fa facevo centinaia di panettoni a un rinfresco, vi posso dire che se il lievito è in forma basta un rinfresco. Due, se volete essere più sicuri, ma tre, se rinfrescate il lievito tutti i giorni ed è in salute, diciamo che non è sbagliato, non sto dicendo che è sbagliato, ma sto dicendo che si può evitare. E siccome il tempo è la cosa più preziosa che abbiamo, poi a molti se gli piace stare tutto il giorno in laboratorio, per tutta la vita, per carità, ma io il tempo è un fattore che metto all'interno, e quindi ovviamente preferisco magari avere quattro ore in più della mia vita privata, più che stare magari in laboratorio per un passaggio che non serva a niente. Se il lievito è solo in salute, questa cosa è valida solo se il lievito è in salute, quindi tutto quello che vi sto dicendo è valido solo se il lievito è in salute. È chiaro che se il lievito mi hanno rinfrescato una volta ogni morto di papa, una volta ogni tre giorni, un giorno sta in frigo, un giorno sta fuori a 40 gradi, e vabbè, cioè deve avere dei parametri, no? Che insegno nel corso di pasticceria levitata. Ovviamente, grazie ai nostri corsi abbiamo corsisti che hanno aumentato i fatturati, corsisti che sfornano i panettoni che sono semplici appassionati, abbiamo aspiranti pasticceri che si formano per il mondo del lavoro. Ovviamente il lievito è una materia viva, va studiata, e nei miei corsi c'è l'assistenza, l'assistenza appunto che io do, perché ovviamente do una traccia, ma poi per andare a fondo delle cose, per capire bene le cose, magari per qualche dubbio do sempre la mia assistenza, perché ovviamente avere qualcuno al tuo fianco è tutta un'altra cosa, no? Ad ogni modo questo video è stato fatto per dirti, se devi capire il lievito madre, devi conoscere i rinfreschi, devi conoscere come fare il panettone, stai partendo eccetera, non andare a prenderti un piacametro subito, prima conosci il lievito, studia, fai ad esempio il mio corso dei lievitati, per esempio, no? Fai anche il mio corso delle bilanciature, è bellissimo perché ho una lezione, ho due lezioni nello specifico, che parlo tutto sul lievito madre, spiego veramente tutto il perché per come, anche lì sfatiamo un attimo un po' i luoghi comuni, cioè anche fare delle cose che sono superflue, tanto vale non farle, no? Perché il tempo è l'unica cosa che abbiamo a disposizione, quindi mi posso esporre così, perché ormai ho la prova certa di quello che dico, insomma. Ad ogni modo questo video è terminato, questo video era per dirti che il lievito madre è una massa viva, va conosciuta, non cercare la scorciatoia, bisogna studiare, bisogna applicare e vedrai che il lievito madre, se studi, applichi e ti impegni, ti darà dei grandissimi risultati. Ricordati come sempre che qui sotto trovi le masterclass gratuite, se ti vuoi iscrivere alle masterclass gratuite, trovi già l'academy, puoi inserirti all'interno dell'academy, puoi entrare nei corsi e vedrai che un giorno mi ringrazierai, oppure puoi contattare il nostro centro assistenza, abbiamo centinaia di testimonianze da tutto il mondo, se sei un appassionato, un aspirante pasticciere, un professionista o un titolare di attività, sappi che io ti posso aiutare veramente a diventare bravo come un pasticciere professionista. Per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!